Benvenuti ragazzi e bentornati da Pianeta Hobby ebbene sì ragazzi, andiamo a spacchettare la seconda parte del box di evoluzioni etere che dire, la prima parte è andata molto molto bene devo dire non vi spoiler le carte perché se per caso non siete andati a vederlo vi consiglio di andarlo a vedere abbiamo trovato 4 carte molto belle, in teoria se devo stare al pool, qua dentro ci sono minimo 2 carte massimo 3 barra 4 se ci va di fortuna, ma dubito fortemente quindi detto ciò direi subito di iniziare quindi andiamo raga primo pack di Eevee di Umbreon, di evoluzione di Eevee andiamo un po' 1, 2, 3, 4 Energia a metallo Floette, quante di gomma Tentacore, Freelipop Apple, Pikachu, Cutterfly, Heavy Medaglia elementare alle verse Umbreon V ragazzi Let's go, let's fucking go raga Che bello è Bello raga Spaziale Umbreon Così se lo facevano full art con questa immagine Poteva avere un potenziale incredibile Secondo pack Tac, 1, 2, 3, 4 Raga, ho sentito qualcosa di luvido Avrei bordi grigi Potrei stare male Allora, bordi grigi Non c'è la V qua Quindi potrebbe essere un allenatore E' infatti allenatore Milo Full art Raga, c'è due carte così Ma che è? No, ma mica bene sta cosa Cioè, poi dopo non trovo più niente Andiamo con il terzo Energia Vigo Avalug Lambur Scruggie Fletcher Gossiflor Carvana Pompacop Polton Lifion B Raga Ma che cavolo è? Raga, è entrato forse tutto Cioè, nei primi tre pacchetti Così sul lato destro Raga, comprate solo il lato destro Attenzione Ussa, le mari Tardius Slepi Lottal Hitmoncham Terimio E salamans Raga Salamans Pacchettino Ecco Uno, due, tre, quattro Slepi 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 Maschera E zero Ora Olo E raga, mi sa che Mi sa che abbiamo trovato tutto Raga Ma è brutto così Cioè, è bruttissimo Tre pacchetti di fila Con tre bombe Tra l'altro Milo Cioè, sta medaglia Con un diamante in mezzo Che fa brutto Ma veramente brutto Vabbè, raga Mi muoviamo anche a spacchettare Ma mi sa che Non so Non lo so Non lo so Non lo so Teddy Bursa Slab Lottal Hitmoncham Shagor Oh C'ho Un Vimax Un'altra raga Otto carte raga Clamoroso Cioè, ma questo box È sfallatissimo Clamorosissimo Sto box, raga Bellissimo Cioè, fortunatamente Ho trovato qualcosa di serio In questo box Pikachu Pikachu Difesa Scrappito Vabbè, giustamente Giustamente Energia elettro Scraffi Trolley Profumina Slakut Emolga Carvana Oddio Ho perso un po' di come Eevee PNC Ragazzi C'è la mia telecamera Che sta supplicando Di essere caricata Quindi probabilmente Ragazzi Morirà a breve Quindi a breve Non vedrete più La mia faccia La mia bellissima faccia In questo momento Sta soffrendo Da raffreddore Ragazzi Ed un caldo Micidiale Perché fuori Milano Sopra Se esce dal negozio C'è un Freddo Clamoroso Solo qui sotto Nel bunker Raga Fa un caldo Fa un caldo Stemma di essere Piena estate Al mare Sotto sole Cocente Lutwisk Sismetod Vabbè raga Ma mi sa che adesso È tutta come una ace C'è Guarda quanti pacchetti Fufa Dove apriremo Mannaggia Mannaggia A me Mannaggia Anzi Mannaggia Pokémon Che mette tutte le carte Belle sopra E poi nel metà video Cosa fate Schippate il video Lo chiudete Perché tanto abbiamo Trovato tutto Tentacool E morga Lili Plup Mettare un flame Ah vi odio Pokémon Anche perché mettono un full garantito di 7-8 carte Tu che conti 7? Ok Forse trovi una Trovi l'ottava Basta Finito Non c'è più niente dentro Galleria Popito Tenta Cruel Ma Hip Dai No Hopip Tenta Cruel Zoro Ippopotamus Cicciccicc Ah 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 Ooh Oh ah Shakan Frullato Dragon Leli Lelelip Sid Ma side cosa fa So il raggio Cos'è Pikachu alternativo Tentacool Drosy reverse Che bello raga E' veramente un'emozione Per i pacchetti sapere già che non c'è nulla Perché è uscito tutto One Two Three Oh ma che bello Questa artwork è bellissima Montana tempestosa L'artwork è spaziale Mi chiedo io come fai ad arrivarci lì sopra Però va bene Per combattere Ma va bene Comunque Drosy Marip Dubel Herdier E La famiglia di Charpido Che bello Andrea Che bello Non vedevo l'ora di spacchettare carte Rare Zorua Hippopotamus Widow Ludwigs Woboffet Lothado E' un Victini Olo Carino sto Victini Volevo trovare lei full art Perché effettivamente L'art è molto bella Ma Molto difficile Trovare lei rara Soprattutto raga 1-2-3-4 1-3-4 Game Sta tenendo duro la telecamera ragazzi Non so come sia possibile Infatti spero che tenga duro ancora qualche minutino Dimmi di sì Dimmi di sì 1-3-4 Precizziamo un attimino energia, lambur, acchiappa, fletching, etimon, hoppy, ursa, daino, wow, buffett e altaria. Ragazzi, ultimo pack, chissà cosa troveremo mai. Mi sono cadute tutte le carte. Vabbè, comunque, un bellissimo, uno sloking, un trofius, holo, è raro. Allora, pool di quattro carte, giustamente. No, la telecamera mi ha lasciato all'ultimo, ragazzi. Quindi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Quattro carte in questa metà, quattro nell'altra, il pool perfetto, perché è garantito sette, otto carte. Se trovate sette carte, perché probabilmente trovate un oro o un'alternativa addirittura, quindi non vi preoccupate, è quasi normale. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.